La Puglia mi accoglie, accoglie i compagni della Campania, della Basilicata, della Calabria, tutti i compagni della Puglia, grazie, grazie per averci aiutato a raggiungere gli obiettivi, grazie, grazie per fare il modo che il Sud c'è, c'è oggi tutto in questa piazza, grazie ancora. E poi compagni e compagni, possiamo dircelo, siamo talmente retti che facciamo milacoli, oggi c'è il sole, dopo giorni e giorni di pioggia, anche il tempo è con noi, anche il sole prova a riscaldare questa manifestazione, prova a colorare questa piazza, prova a colorare questo corteo, grazie, Bari vuole ringraziare, vuole ringraziare in particolar modo anche la città nazionale per aver scelto vari tra le piazze e le manifestazioni, proprio perché noi vogliamo anche provare a far partire da qui, da questa piazza, insieme a tutti voi, insieme a tutti i compagni della Puglia, della Basilicata, della Calabria, della Campania, un messaggio chiaro, un messaggio chiaro rispetto ad un'inversione di tendenza, ad un'inversione di lotta, ad un'inversione strutturale della politica di governo, che guardi al sud, che parli al sud, che parli alle condizioni dell'uomo e delle donne di questa terra, di questo territorio, che parli soprattutto agli studenti, ai giovani che hanno aperto questo corteo, quelle tute blu non sono solo il simbolo della classe operaia, che qualcuno vuole far credere essere superata, quelle tute blu sono il simbolo del lavoro, quel lavoro che noi oggi difendiamo, quel lavoro che noi oggi piediamo, nelle misure del governo. E allora la scelta finora compiuta dal governo a partire, a cominciare, possiamo dire, dal prezzo d'imposta, a finire poi a tutte le operazioni fatte sul Jobs Act, ci dicono che quella è una politica economica sbagliata, ci dicono che quelle misure sono misure inefficaci, ci dicono addirittura che quelle sono misure addirittura dannose. Guardate compagni e compagni, amici e amiche, qualcuno sta provando anche di ignorare i dati Istat, dati Istat che dicono che c'è una riduzione complessiva del contratto a tempo indeterminato, un aumento vertiginoso delle condizioni precarie delle persone. E allora oggi noi vogliamo provare a dire che insieme si può lanciare un messaggio chiaro di forza, di rivendicazione, di unità rispetto alle condizioni delle persone. E quindi lo facciamo partendo dai giovani, partendo dagli studenti, partendo dai lavoratori precari e partendo dai tanti e tanti lavoratori disoccupati, per non dimenticarci chiaramente dell'importanza che svolgono all'interno di questo Paese i nostri cari pensionati. Grazie!